Buonasera amici e amiche carissime a tutti, bentornati o benvenuti a una nuova puntata di Don Leonardo risponde, vedo che c'è già qualche domanda per cui cominciamo subito le nostre piccole condivisioni e conversazioni dialogate. Lizza Galippo chiede cosa ne pensa degli incontri interreligiosi che si tengono presso alcune parrocchie? Domanda un pochino generica, di per sé un incontro interreligioso se ovviamente condotto in un certo modo, con un certo stile, quindi nello spirito buono del dialogo interreligioso che bisogna certamente coltivare è di per sé una cosa negativa, bisogna poi verificare in concreto come un certo incontro, si spera che in una parrocchia sia venuto decentemente, è concretamente fatto, quindi bisogna fare attenzione in queste circostanze semplicemente di fugare confusioni, possibili sincretismi o cose che possano un pochino disorientare qualche coscienza. Noi cattolici sappiamo che la pienezza della rivelazione e dei mezzi di santificazione per volontà di Dio, non certo per volontà nostra né per un nostro atto di superbio e di disprezzo del prossimo, sono però nella Chiesa cattolica tra l'altro in pienezza. È evidente che chi è nato, cresciuto e vissuto in un altro contesto socio, culturale e religioso questo non lo crede, non lo pensa e come la Chiesa insegna ci può essere la possibilità di salvezza per chi in buona fede e non avendo la possibilità soggettiva di aderire al Vangelo e di riconoscere quindi Gesù come figlio di Dio, tuttavia si comporta bene secondo i dettami della propria coscienza in maniera conforme alla legge naturale e ai principi buoni della propria religione. Ed è comunque compito, e questo è il buon dialogo interreligioso, della religione creare dei punti di contatto, dei punti di collaborazione, dei punti di incontro perché certamente la religione non vada ad alimentare tensioni, guerre, conflitti ma possa invece essere un aiuto, una spinta, un motore anche per le cosiddette società laiche per perseguire quei valori che sono comunque universali. Ecco, quindi è chiaro che la risposta deve essere articolata. È chiaro che se uno dovesse fare, ma questa è un'ipotesi a follia, un incontro dove si mette a dire che va bene, qui siamo tutti uguali, tutte le religioni sono uguali, chi ti preghi ti preghi, va bene lo stesso, eccetera eccetera, in questo modo così facilotto e semplicistico, è chiaro che questo non sarebbe una cosa fatta bene, ma insomma ci si arriva con una certa facilità. Iurlei dice, Don Leonardo, solo Dio conosce i nostri pensieri o anche la Madonna? Per natura i nostri pensieri li conosce soltanto Dio, se riguarda la Madonna non c'è niente, diciamo così, che io sappia di rivelato, però c'è evidentemente una piagredenza che si basa sul fatto che la Madonna è la creatura predilettissima di Dio, quindi Dio non ha segreti con la Madonna, non perché la Madonna abbia gli stessi poteri di Dio, ma perché Dio non vuole avere segreti con la Madonna e quindi la mette a giorno di tutte le sue conoscenze. Quindi si può, come dire, ragionevolmente credere, anche se questo evidentemente è un'opinione personale, soggettiva, frutto dell'amore e della devozione personale verso la Madonna, che questa sia una cosa possibile, ovviamente per volontà di Dio, essendo la Madonna la creatura che sempre, in tutto e per tutto, ha fatto la volontà di Dio ed è vissuta di essa, sappiamo bene, questo diciamo è noto, che Dio la lascia a giorno di tutti quanti i suoi pensieri e desideri. Quindi è come quando si dice che la Madonna è l'onnipotente per grazia, è chiaro che Dio solo è onnipotente e la Madonna non è onnipotente di per sé, quindi la Madonna non può da sola volere e immediatamente fare una cosa, la chiamano l'onnipotente per grazia o l'onnipotenza supplice. Certo che poi, siccome Dio la vuole fare contenta, basta che lei neanche esprime un mezzo desiderio e Dio l'ha già fatto, ecco, però c'è sempre, cioè dobbiamo sempre pensare che la Madonna tutto quello che ha, e lei vuole che questo sia ben chiaro, lo ha per partecipazione di grazia, ecco, questo è sempre la netta, diciamo così, demarcazione che ci aiuta a rimanere sempre saldi nell'ortodossia, ecco, perché la Madonna per quanto grande sia, ed è veramente grande, è una creatura, d'accordo? Quindi non si può dire che la Madonna conosce tutti quanti i nostri pensieri come Dio, la Madonna conosce tutti quanti i pensieri degli uomini che Dio li fa conoscere. Se Dio li facesse conoscere tutti, volendo partecipare al 100% della sua onniscienza a Maria Santissima, io personalmente lo ritengo più che da credere, insomma, e mi sembrerebbe una cosa assai bella e, come dire, assai conveniente, ecco, questo è il termine che si usa un pochino in teologia. Se così non fosse non bisogna scandalizzarsi perché, non essendo Dio, la Madonna non può avere per natura la conoscenza di tutti i pensieri delle creature, evidentemente. Zerofolle63 chiede, buonasera carissimo e stancabile Donardo, quali saranno i temi trattati nel senato dell'Amazzonia? Ecco, qui Zerofolle63, devo fare un mea colpa, mi coglie un pochino impreparato, perché un povero prete fa già abbastanza fatica, gradevole fatica, andare dietro alle tante cose che sono fatte oggi nella Chiesa, sinodi, documenti, encicliche, nuove norme, poi Papa Francesco, insomma, è abbastanza attivo, quindi si fa già un pochino di fatica a stare dietro a quello che c'è e c'è stato, per cui io personalmente non sono andato ancora a scandagliare, come non l'ho fatto neanche per gli altri sinodi, prima di rispetto che un sinodo sia fatto e di reggere il documento finale, poi, insomma, no, perché seguirlo passo passo diventa una cosa un pochino, diciamo così, laboriosa, sarebbe bello avere modo e tempo di poterlo fare, però non c'è la possibilità sempre di farlo, quindi chiedo perdono, ma su questo non sono adeguatamente informato, quindi anziché dire, insomma, sciocchezze o cose troppo grossolane e preferisco passare a un'altra domanda. Lucia Franco dice, Maria Dio secondo me parere è anche severo per colpa del peccato che piangiamo le conseguenze. La domanda non la capisco tanto bene, diciamo che la severità di per sé non è un difetto, un difetto è la rigidità, ecco, per cui la severità può andare tranquillamente d'accordo con la dolcezza, no, perché severità, come dire, va un pochino d'accordo con serietà, cioè, d'accordo, perché la misericordia, l'amore, la dolcezza di Dio, lui non vuole che siano mai scambiati per debolezza, d'accordo, o per, come dire, autorizzazione più o meno esplicita o forse implicita a fare qualcosa di male, o peggio ancora, avallo di qualche situazione di male fatto, questo Dio non lo vuole per nessun motivo, d'accordo, quindi la severità, che è un connotato, diciamo, che si avvicina un pochino più all'attributo della giustizia che della misericordia, è cosa assolutamente normale, insomma, i grandi santi si sono caratterizzati, tutti anche quelli, diciamo così, più dolci, con il connotato della severità, nel senso che, per quanto riguarda i principi, sui principi non si transige, d'accordo, sui principi non si transige mai, si discute, si dialoga, si verifica, si fa attenzione sulle applicazioni concrete, dei principi per i quali occorre tenere conto delle debite circostanze, delle situazioni concrete, delle realtà concrete delle persone, come sui principi non si può transigere, quindi la bontà, la misericordia, la dolcezza, l'amore di Dio non devono, non possono e lui non vuole che mai diventino sinonimo di debolezza oppure come dire, ridurre il Vangelo e il Decalogo e la legge di Dio a una sorta di barzelletta, no? Ecco, quindi facciamo le cose serie, ecco, non le cose seriose, né le cose rigide, ecco, ma le cose serie però sì, ecco, e quindi credo che anche nostro Signore sia sintonizzato su queste frequenze. Arianna Blasi dice, buonasera padre, perché la Chiesa permette lo scioglimento del matrimonio, se Dio dice, l'uomo non divida ciò che Dio ha unito. Arianna, la Chiesa non permette nessuno scioglimento del matrimonio, mai, in nessun caso, per nessun motivo, il scioglimento del matrimonio è atto che nessun essere umano può fare, no? Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce, dice Gesù nel Vangelo, cioè, quando per esempio il sacramento del matrimonio, matrimonio celebrato in Chiesa nella forma del matrimonio concordatario, d'accordo? Poi due coenogi litigano, si separano e vadiscono i tribunali civili e fanno pronunciare la sentenza del divorzio. La sentenza del divorzio sul sacramento del matrimonio produce effetti zero, se non un peccato mortale commesso contro la santità del vincolo indissolubile. Io per far capire questa cosa ai fedeli faccio l'esempio, cioè, dell'ostia consacrata. Se io, che sono un povero prete di un piccolo paese dell'agropontino, bellissimo ma comunque molto piccolo, celebro la messa e consacro un'ostia, può pure venire il Papa a sermonita, ma quell'ostia che io ho consacrato non la può sconsacrare. E se per assurdo venisse un vescovo e dice, no, Don Leonardo mi sta antipatico, io voglio sconsacrargli l'ostia. Bene, da questo momento quest'ossi è sconsacrata e, che ne so, la butta per aria dicendo, tanto ormai l'ho sconsacrata e non è più niente. Un vescovo di questo genere, ovviamente sto facendo un discorso per far capire, teorico, non esiste nessun vescovo che faremo una follia del genere. Supponiamo per assurdo, questo perché? Perché un vescovo che è superiore a me in grado non può sconsacrare un'ostia che ho consacrato io, ma non può farlo neanche il Papa, non può farlo nessun cardiano, non può farlo nessuno. Potrebbe farlo solo, non lo so, perché Dio è onnipotente, non so se con un miracolo forse lui potrebbe farlo, anche se una volta che c'è una consacrazione dove c'è un atto della sua volontà, insomma tornare indietro sarebbe rinnegare una cosa. Quindi il matrimonio non si scioglie. Altro discorso, quando il matrimonio può essere stato nullo, quindi il matrimonio non si scioglie, il matrimonio in alcuni casi i tribunali ecclesiastici, diocesani o quello universale che è la Sagra Loda, ma il Papa Francesco ha molto dilatato le competenze sia dei tribunali diocesani che anche degli stessi vescovi locali in alcune circostanze. Si limitano a registrare dei casi in cui il matrimonio, per un vizio sostanziale del consenso fondamentalmente o per l'esclusione di alcuni beni inerenti al matrimonio, ecco io qui dico le cose generali che sa un povero prete quando studia il primo ciclo e che fa l'esame di base di diritto canonico, poi il mio amico Don Pierpaolo sicuramente che sta diventando un grande esperto di diritto ne saprebbe molto molto di più in tutti i miei particolari, ma la sostanza del problema è che il sacramento non c'è mai stato, sarebbe come se un prete, facciamo un esempio di prima, consacra e poi quando va a fare la comunione si accorge che sta bevendo l'aceto, che il vino se è diventato aceto quella consagrazione non c'è, quindi la messa nel senso totale la deve ricelebrare, perché per consacrare il calice dentro ci deve essere il vino che non è diventato aceto, se è diventato aceto quello sangue di Cristo non ci diventa, tutte quante le fattispecie di un'unità matrimoniale che la Chiesa dichiara sono solo di questo tipo, al di fuori di questi casi il vincolo matrimoniale è indissolubile, e attenzione questa indissolubilità tra l'altro come Gesù spiega non è radicata semplicemente nel sacramento, ma è proprio nell'indole stessa dell'istituto matrimoniale come uscito da Dio, perché quando Gesù fa una domanda sul divorzio nel Vangelo, Gesù non dice non osi separare l'uomo ciò che ti unisce perché io sto per istituire un nuovo sacramento, no, da principio non fu così, per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di votare le vostre mogli, ma da principio non fu così, quindi significa che il matrimoniale è indissolubile non principalmente in forza del vincolo sacramentale, che certamente era la forza dell'indissolubilità, ma per diritto naturale, diventiamo un po' quanto sono lontane anche le legislazioni, anche civile, che così facilmente ammettono lo scioglimento del matrimonio. Scorro, è il gatto io, buonasera caro padre, vorrei sapere se conosci la storia di Ananis Michel, ne ha parlato anche padre Amort, come me la ragazza non è santa, la storia di Ananis Michel è una storia veramente, è tutto peculiare, molto molto particolare, diventerà santa se e quando, come per tutte le cause di beatificazione, ci sarà una istruttoria, quindi una, come dire, un'istruttoria che parte dalla diocesi, quindi con la fama di santità e con tutta quanta la fase diocesana e poi la portata alla santa sede, ma come il Papa stesso ha scritto nella Gaudetito Exsultate, un'etra molto bella sulla sua santità, se posso dire insomma la mia preferita dell'attuale pontefice e questo si può dire questo qui, ecco, ci sono molti santi che non saranno mai canonizzati, d'accordo, ma siamo tranquilli che santi ci sono perché poi la canonizzazione è realtà che in parte dipende dalla volontà di Dio, in parte dipende dall'interazione degli uomini, quindi qualche volta ci può mettere la coda di mezzo insomma il diavolo, insomma, la storia di questa donna è certamente edificante, certo questa è stata una donna che si è offerta come vittima e il suo essere vittima significava subire quello che ha subito, insomma delle cose veramente allucinanti, indicibili, come vessazioni, non solo vessazioni da parte del diavolo ed è tragicamente morta durante un esorcismo, insomma, quindi certamente è una storia molto particolare, insomma, mi sembra normale, anche perché è abbastanza recente, che ancora non sia sfociata agli onori dell'altare, perché certamente è una situazione molto molto particolare. Padre ma una persona divorziata può diventare diacono? Una persona divorziata non può diventare diacono, i diaconi permanenti devono essere appunto sposati, ecco, eventuali situazioni insomma particolari, quindi non tanto di divorzio quanto di eventuali separazioni che si siano subite e poi si mantenga la castità, questo è un discernimento che eventualmente dovrà fare il Vescovo, personalmente con il diretto interessato, ma di per sé certamente no. Irene Pellegrini dice, buonasera Donardo, mi potrebbe dire cosa ne pensa dell'Opus Dei, grazie. Io non amo mai, Irene Pellegrini, come dire, formulare giudizi troppo particolari né su persone né su singole realtà e movimenti. L'Opus Dei è una predatura personale, per questo è il termine adatto, ecco, che raccoglie le indicazioni per un percorso di santificazione eminentemente laicale, perché è diretto fondamentalmente alla santificazione dei laici che lavorano, come dire, messo giù a seguito di divine ispirazioni da San José Maria Iscrivano. Personalmente ritengo che, questo discorso vale anche per la Chiesa in questo mondo universale, come tutte le realtà che vengono da Dio, ma poi sono gestite dagli uomini, ci sono delle luci e delle cose belle che sono appunto quelle che vengono da Dio e delle ombre che dipendono dalla gestione imperfetta e a volte più che imperfetta da parte degli uomini, perché fino a quando siamo in questo mondo, quindi di per sé è una realtà che ha pieno diritto di cittadinanza dentro la Chiesa, insomma, il prelato dell'Opus Dei è nominato dal Papa, insomma, quindi il loro apostolato è assolutamente in comunione con la Chiesa. Da un punto di vista di dottrina hanno una fedeltà al Magistero, insomma, alla sana tradizione assolutamente integerlima, insomma, sia a livello formativo sia anche a livello di scuole, di università, compresa l'università pontificia, insomma. Non mi stupirei, ecco, se qualcuno, come dappertutto accade, dovesse avere qualche cosa di cui lamentarsi, ma questo qualche cosa di cui lamentarsi dipende, come in queste realtà, ripeto, dalla gestione umana di cose divine. Se accade a livello di Chiesa universale, come la storia della Chiesa e anche la cronaca, insomma, recente, testimonia, non ci deve stupire che accada in associazioni, aggregazioni, movimenti e realtà ecclesiali. Purtroppo, come proprio Francesca ha detto tante volte, qui, cioè, nel corso della storia della Chiesa, questo ricordiamo, no? L'idea della Chiesa dei puri, cioè, dei perfetti. Uh, si è riproposta, no? Hanno cominciato prima i donatisti contro i quali ha lottato Sant'Agostino, poi nel medioevo i catari, poi gli albigesi, quindi, cataros in greco significa appunto puro, no? E i catari degli albigesi erano contemporanei di San Francesco, insomma, erano anche, come dire, molto vicini alla spiritualità dell'ordine dei mendicanti, per cui a volte il confine, come dire, tra lo zero e l'ortodossia e lo scantonamento nell'eresia diventa molto molto labile. Noi tendiamo, la Chiesa deve tendere alla perfezione, la Chiesa è chiamata alla santità, d'accordo? Eh, però Contiera nel suo seno insegna all'umengenzo i peccatori. La Chiesa è composta di uomini che sono pieni di debolezze, che sono pieni di miserie, d'accordo? Non possiamo pensare, ecco, la santità è un cammino, anche per pensare che tutti siano santi, o che tutti ce la facciano a percorrere il cammino della santità, che è un cammino bello, entusiasmante, avvincente, ma è un cammino impegnativo. Quindi non possiamo tirare fuori, insomma, o escludere le persone che per debolezza tutta questa grande santità non ce l'hanno, fanno parte della Chiesa anche loro. Devono camminare in conversione o devono usare il sacramento della penitenza e cercare di raggiungere, come tutti, la salvezza della propria anima. Qui in questo mondo la Chiesa appare, dice la Lumen Gentium, rivestita di santità vera anche se imperfetta, ed è santa ma insieme sempre bisognosa di purificazione. Giusi Cassarino dice Don Leonardo mi capita spesso di pensare ad un bravo del Vangelo che poi puntualmente dopo uno o due giorni ascolta la Domenica Messa. Succede tante volte, mi chiedo se è un mio intuito o un piccolo dono di Dio. Questa Giusi Cassarino sono cose di cui parlare con un confessore o col padre spirituale. Queste cose, queste domande, domande di questo genere non si possono intercettare e non vi si può dare risposta in astratto ecco perché è sempre necessario situare questi fenomeni all'interno della personalità di chi li vive quindi all'interno dei propri equilibri della propria storia del proprio vissuto della propria spiritualità vedere il complesso della persona gli equilibri quindi sono una serie di cose che bisogna conoscere bene prima di non dico formulare un giudizio ma prima di azzardare un'ipotesi questa potrebbe essere come dice lei un piccolo dono di Dio oppure non ci pensi insomma si tratta semplicemente di come dire di coincidenze nel senso che se una persona conosce bene il Vangelo e questo le fa certamente onore perché ogni cristiano deve conoscere bene il Vangelo è possibile che prima che ascolti la programmazione del Maggio della Domenica nei giorni precedenti ci abbia fatto un minuto di meditazione questo non deve far pensare insomma a niente di particolare Rosi Biffi dice il sigillo sacramentale vincola solo il sacerdote poi il penitente confidare ad altri ciò che gli dice il sacerdote in confessione allora per quanto riguarda la disciplina canonica in senso stretto io sto imparando a come dire a fare molta attenzione perché allora il sacerdote è ultra vincolato al sigillo sacramentale sotto pena di scomunica d'accordo non credo a quanto ne so che il penitente abbia un'analoga disciplina però il penitente deve pensare e questa è una mia opinione personale poi mi sbaglierò ecco deve fare molta attenzione perché se il penitente parla di ciò che il sacerdote gli ha detto in confessione qualora il sacerdote dovesse venire a essere come dire interrogato chiamato in causa su quello che ha detto non può dire nulla ecco per cui se un penitente capisce fischio per fiasco per esempio e va a riferire a un terzo che il sacerdote X in confessione gli ha detto questa stupidaggine e il sacerdote non gli ha detto nessuna stupidaggine ma questo ha capito fischio per fiasco e mette nei guai il sacerdote il sacerdote si trova veramente nei guai perché il sacerdote deve dimenticare quello che è successo in quella confessione non soltanto la materia di peccato ma anche tutto ciò che è avvenuto in confessione a meno che non abbia una come dire una liberatoria un'esplicita autorizzazione del penitente a tenere conto di ciò che ha saputo in confessione che esula chiaramente dalla materia peccaminosa e morale in senso stretto quindi sicuramente questa è un'operazione altamente scorretta e non aliena da peccato perché il mondo della confessione è un mondo sacramentale bisogna avere un rispetto sommo per questo io personalmente ci scuserebbe di essere abbastanza severo tornando al discorso che abbiamo fatto prima non rigido ma severo su questo raccomandando i benidenti dico st'attento tutto quello che dobbiamo dire ci diciamo adesso non mi venire finita la confessione a dire non mi ricordo che cosa mi hai detto che cosa non mi hai detto che penitenza mi hai dato che penitenza non mi hai dato non me lo venire di dopo per favore non mi mettere in queste condizioni perché finita la confessione la confessione è finita io non so niente di quello che tu mi hai detto d'accordo niente d'accordo ecco bene Maria Costanza Eliana dice buonasera Leonardo le pongo la seguente domanda è peccato pensare che il vicario di Cristo non faccia la divina volontà e quindi che sia fallibile il Papa è da considerarsi sempre infallibile allora certamente è peccato pensare che il vicario di Cristo non faccia la divina volontà d'accordo perché questo non si deve pensare di nessuno perché è un giudizio temerario grave d'accordo Gesù ha detto non giudicate e non sarete giudicati andare a dire insomma che il vicario di Cristo non faccia la divina volontà insomma mi pare una sparata sicuramente non è cosa che pensa Maria Costanza insomma se qualcuno pensasse una cosa di questo genere penso che dovrebbe andare una quarto d'ora davanti al Santissimo Sacramento e farsi un pochino di di mente rocale sparare una cosa di questo genere insomma il vicario di Cristo non fa la divina volontà puffede ma che sei matto e sulla base di cosa d'accordo capite noi non possiamo giudicare mai nulla e nessun caso perché anche quando una cosa ci sembrerebbe strana tu che ne sai perché quella cosa sta perché perché il Papa o un Vescovo sta facendo in quel modo sta facendo io vi dico da povero prete che mi rendo perfettamente conto che delle decisioni che prendo e che attuo viste da fuori senza sapere quello che so io potrebbero essere dicendo ma questo che sta a fare ma io non te lo posso dire perché sto a fare così ma lo so io perché sto a fare così primo ecco ciò detto il Papa non è infallibile sempre dovunque comunque perché una dei filius che ha definito il dogma dell'infallibilità pontificia ha definito che il Papa è infallibile quando parla ex cathedra ha delle rigorosissime condizioni non bisogna pensare non bisogna né appiattire il Papa o i Vescovi o i Cardinali a persone come tutti gli altri ecco quindi che sono soggetti tra l'altro poi a critiche grossolane come se fossero pinco pallino qualunque d'accordo cioè questo andazzo insomma questa moda che c'è oggi che a mio avviso è anche oltremodo irriverente non voglio fare certamente insomma ma lo è anche quando è fatta nei confronti di un povero prete anche se ovviamente a livelli minori è eccessiva da un lato però non si può neanche come dire mitizzare una persona cioè che se il Papa fa una battuta ha fatto una battuta quella è una battuta che fa in quanto essere umano d'accordo non è che ha fatto il Papa la battuta che è infallibile cioè devo credere che capite dopo uno diventa ridicolo d'accordo è chiaro che il Papa quando agisce nell'esercizio delle sue funzioni di Papa d'accordo sempre bisogna prestare i suoi insegnamenti religioso ossequio riverenza ascolto e riverenza e ossequio alla sua sacra persona d'accordo per il ministero altissimo che offre che svolge scusate ma la riverenza adesso non voglio va già rivolta a un povero prete perché anche un povero prete che non c'è niente a che fare col Papa ma è un uomo di Dio è un consacrato del Signore d'accordo tutte queste cose oggi San Francesco di cui il Papa porta il nome non insegnava assolutamente queste cose è vissuto in un tempo in cui la situazione media della Chiesa e del Clero era disastrosa ma lui non predicava in nessuna diocesi senza il permesso del Vescovo lui non ha fatto nessun ordine senza avere la benedizione del Papa e non ha mai detto mezza parola storta nei confronti di nessun prete e diventava una belva se qualcuno dei suoi frati questo lo faceva diventare una belva sul senso si azzardava a fare diversamente io penso che è un po' di sano francescanesimo in questo senso ecco non la francescomania che al Papa stesso dà molto fastidio come in più interventi ha detto ma un po' di sano francescanesimo sarebbe un pochino da recuperare perché in questo tempo di chiacchiera facile via social insomma io capisco Maria Costanza Eliana ma questa cosa l'aveva sentita dire il vicario di Cristo non faccia la divina volontà io non posso saltare dalla sedia ma se leggo una cosa del genere mi viene da saltare dalla sedia perché dico ma come ti viene in mente una cosa del genere solo a pensarla cioè questo fa comprendere è chiaro che chi dice una cosa non si rende conto di quello che dice no? non si rende conto di quello che dice ok bene Lucia Franco dice perché il diavolo ha porre di più della Madonna ha porre di più della Madonna perché la Madonna è una creatura ed è donna e quindi come spiegata la legge Maria Monfort che lo umili la divina onnipotenza non c'è 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 ma che lo umili con lei che di per sé è una creatura e per di più donna ha questo la sua superbia proprio non riesce a digerirlo il problema è che lo umili in quel modo proprio perché questa creatura e questa donna è la più umile creatura che esiste nell'universo pur essendo dell'universo la più grande di tutti 0-4-63 cosa si intende per morte mistica questo bisogna rivolgerlo questa domanda alla Madonna ecco la morte mistica nella vissuta ai piedi della croce per cui è qualche cosa di non perfettamente spiegabile in termini umani no la può vivere anche un uomo una donna di Dio quando la divina grazia come dire la purifica talmente tanto diciamo così da distruggere tutto quello che di umano gli resta e trasformarlo fin da questa vita più in ciò che saremo dopo che in ciò che siamo adesso insomma si tratta però di processi di operazioni molto molto profonde delle quali poco si può parlare e poco si può comprendere chi le vive ne ha ben chiara la portata della percezione la Madonna la morte mistica la vissuta della croce ma nel senso che la morte che ha vissuto lei è stata qualche cosa di assolutamente impressionante insomma non è rimasta in vita quindi è rimasta la vita biologica quindi non è morta anche per il dolore di dare la situazione interiore soltanto perché la divina bontà l'ha mantenuta in vita Andrea Battimiello 99 padre buonasera a lei venendo al dunque le volevo chiedere ma in coscienza se un medico cattolico non potrebbe praticare aborti un avvocato cattolico come deve comportarsi con i divorzi allora un avvocato cattolico non è obbligato a trattare nessuna causa di divorzio io ho lavorato in quest'ambiente quando ero più giovane prima di diventare sacerdoti e c'erano degli avvocati cattolici che in coscienza non accettavano le cause di divorzio punto non accettare le cause di divorzio significa rinunciare anche a dei considerevoli introiti specialmente di questi tempi quindi questo è anzitutto un problema i problemi di coscienza sono problemi di coscienza cioè non si può scaricare come dire il problema di coscienza su altri quindi se un avvocato è cattolico deve mettersi davanti a Dio in preghiera e dire che cosa faccio se qualcuno viene a chiedere di perolare una causa di divorzio punto interrogativo sì no tutte solo alcune solo in alcune circostanze è questo lavoro che spetta la coscienza formata è chiaro che un medico ma i medici adesso hanno il diritto dell'obiezione di coscienza è chiaro che per esempio ci sono vari campi dove si deve si potrebbe lavorare per ottenere il diritto all'obiezione di coscienza dove ancora non c'è ecco i cattolici tutte quante le categorie hanno il dovere di pensare ed eventualmente di rimboccarsi le maniche per estendere l'ambito legittimo di esercizio del diritto di abiezione di coscienza a quei casi in cui trovandosi in certe circostanze lavorative si verrebbero a trovare con casi che confliggono con il patrimonio etico di valori in cui credono in base alle loro credenze e siccome questa cosa appartiene insomma la libertà religiosa a differenza cioè è un diritto non soltanto civile ma un diritto umano quindi io non posso essere obbligato da nessuno ad agire contro la mia coscienza da nessuno quindi questo è qualche cosa che occorre quando è necessario fare in modo quindi fare anche come dire delle chiamiamole delle battaglie tra virgolette tali da veder riconosciuto per chi desidera pur nel rispetto della legalità non essere collaboratore di certe cose di poterlo fare perché questa è una cosa che va contro i miei principi può spiegare dell'anello che indossa non mi sembra di averlo visto indossare gli zagalippo queste sono domande personali a cui come già detto io non rispondo mai a domande personali gli anni ok riconosciuto la sacra nota lorenzo godio buonasera vorrei chiederle se ci sono degli elementi per capire se chiamate al sacerdozio e cosa fare in quel caso allora questo argomento richiederebbe insomma diverso diverso tempo il signore fa capire molto bene se chiamano una persona al sacerdozio attraverso dei richiami interiori uno lo sente anzitutto nel cuore può trattarsi di un'infatuazione come dire passeggera ma il primo segno è che generalmente queste inquietudini che accompagnano una percezione di vocazione non si esauriscono nel giro di qualche giorno di qualche settimana ma si mantengono nel tempo se una persona vede che è attratta da questa cosa come un desiderio che tende a rimanere stabile nel tempo ecco si può come dire pensare ad una possibile vocazione quindi occorre cominciare un cammino di discernimento accompagnati da un padre spirituale e poi a seconda del tipo di chiamata che uno sente se al sacerdozio di Cesano in tutte le diocesi c'è un sacerdote che è delegato del vescovo di accompagnare l'opera del padre spirituale che il candidato comunque si sceglie in un eventuale discernimento oppure se si tratta di una famiglia religiosa poi dovrà prendere contatto con il superiore quindi in un secondo momento dopo questa prima verifica fatta nel segreto e nella riservatezza insomma con un sacerdote prudente verificare di eventuali orizzonti di sbocco della vocazione con gli organismi a ciò deputati ripeto se uno sente di essere chiamato al sacerdozio diocesano con il delegato diocesano del vescovo oppure con la famiglia religiosa e con i responsabili per questo anche le famiglie religiose tutti quanti li chiamano promotori vocazionali generalmente che hanno il compito di entrare in contatto con i ragazzi e le ragazze che sentono la chiamata a un certo istituto per poter in un secondo momento fare un eventuale discernimento e poi eventualmente prevedere l'ingresso in quel certo istituto Cristina Bianco tre gentili da un altro per un credente che rapporto si deve essere tra umiltà ed autostima la ringrazio molto io dovrei dire che umiltà ed autostima sono due facce della stessa medaglia per non dire proprio la stessa cosa perché l'umiltà è verità quindi la Madonna era umilissima la Madonna non avrebbe mai detto di essere una peccatrice d'accordo mai semplicemente perché i peccati non li faceva d'accordo ecco ora l'umiltà per la Madonna che cos'era era riconoscere che lei non faceva i peccati non perché era il Padre Eterno ecco ma perché dal Padre Eterno aveva ricevuto grazia su grazia che sapeva certamente conoscere e riconoscere e mettere a frutto quindi d'accordo l'autostima è un concetto diciamo così importante ma se è rettamente pensato cioè consiste nella capacità di riconoscere il bene che si è che si ha e che si fa ecco però chiaramente per un credente questa conoscenza non è finalizzata come dire ad una esaltazione dell'io ma è finalizzata a un ringraziamento di Dio d'accordo e insieme alla conoscenza del bene che sono che ho e che faccio viaggio di pari passo anche la conoscenza dei guai che combino degli errori che commetto dei peccati che faccio dell'imperfezione dei ritardi delle miserie che vengono da noi un'accettazione come dire se serena anche se sofferente e che impegna poi la persona a camminare continuamente in costante conversione Andrea Scaramuzzino scrive sentire freddezza nell'esprimere un'intenzione oggettivamente buona prima della preghiera giunge al Signore o vi giunge solo nei momenti di maggiore fervore non capisco proprio benissimo al 100% quello che Andrea Scaramuzzino chiede gli stati diciamo così di fervore o di freddezza non sempre dipendono da noi il Signore ascolta e accoglie tutte quante le nostre preghiere tutte e le esaudisce solo che le esaudisce nei tempi suoi e nei modi suoi perché se una preghiera è malfatta nel senso che si chiede una cosa che ci sembra buona per la persona ma Dio sa che buona non è Dio ascolta quella preghiera dando a quella persona la cosa buona che vuole dargli anche in forza certamente di quella preghiera e a volte la cosa buona che noi chiediamo non viene data immediatamente c'è molta gente che prega per la conversione di qualcuno magari lo dice quello è morto e non sembra che si è convertito e magari poi quando moriremo si verrà sapere che tutte quante quelle preghiere gli ha costato la conversione in punto di morte oppure altre volte succede che una persona per cui tanto si è pregata poco prima di morire chiede di accostarsi ai sacramenti in quel caso si vede che il Signore voleva che chi ha pregato avesse anche la consolazione di poterlo vedere altre volte questa cosa non la concede ecco quindi le preghiere sono tutte quante esaudite da nostro Signore quando si fanno con fede e con amore poi il fervore è cosa accidentale non essenziale ecco della preghiera specialmente di intercessione solo che dobbiamo sempre ricordare che il Signore esaudisce a tempi forme e modi opportuni che possono non coincidere con quelli che noi ci attendiamo buonasera Don Leonardo scrive canale Angelo 1 davanti al Santissimo esposto si può recitare il Rosario certo che si può recitare il Rosario Santissimo sacramente esposto nel Santo Rosario si contemplano i misteri della salvezza anche quando sono misteri mariani per esempio i misteri gaudiosi la protagonista chi è? Maria o Gesù? l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele ha per oggetto l'incarnazione nell'ostia consacrata non l'incarnazione la contempliamo perché nell'ostia consacrata Gesù ha realizzato una sorta di mistica incarnazione tra l'altro reale nella visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta contempliamo la Madonna o contempliamo Gesù che da dentro il grembo della Madonna santifica San Giovanni Battista ed Elisabetta nella nascita di Gesù chi contempliamo nella presentazione di Gesù al Tempio chi contempliamo cioè in tutti i misteri del Rosario si contempla Gesù con Maria cioè la preghiera del Rosario non è una preghiera è una preghiera mariana si dice perché è fatta con Maria e ricorrendo all'intercessione di Maria ma basta leggere la Maria di Paolo VI o la Rosario di San Giovanni Paolo II anche di San Paolo VI io ancora è stato fatto santo da poco ecco come ho detto Paolo VI e San Giovanni Paolo II San Paolo VI e San Giovanni Paolo II ecco per comprendere la natura eminentemente cristologica del Santo Rosario ecco per cui chi dice non si dice Rosario davanti al Santissimo Sacramento come dire manifesta un po' di ignoranza in senso etimologico nel senso che non si rende conto non capisce non ha non ha approfondito non conosce la valenza ripeto eminentemente cristologica di questa preghiera i misteri che si contemplano nel Rosario sono tutti i misteri che hanno soggetto principale al nostro Signore Gesù Cristo e la Madonna chiaramente ne è in molti di essa partecipe perché è stato lo strumento scelto da Dio per compiere l'opera dell'incarnazione del verbo e della redenzione del mondo allora passo dell'Antico Testamento allora per quanto riguarda i passi dell'Antico Testamento ho appena pubblicato oggi dico ad Alexium 01 un nuovo ebook così facciamo consigli per gli acquisti sulla Sacra Scrittura che si chiama l'ignoranza della scrittura e l'ignoranza di Cristo non si possono prendere i passi dell'Antico Testamento specialmente quelli più scabrosetti diciamo così dimenticando che sono passi dell'Antico Testamento quindi si legga bene quell'ebook per comprendere che io non posso accostarmi alla Bibbia aprirla e andare a prendere un passo di guerre o di cose da Antico Testamento e dire Dio fa ammazzare la gente questo è una come dire un modo di accostarsi infantile e grossolano alla Sacra Pagina che non tiene conto di tutta la struttura progressiva della rivelazione ecco per cui nella Dei Verbum io in un'ampia sezione di questo ebook commento la Dei Verbum che è la costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla rivelazione la Chiesa auspica che i fedeli si accostino alla Bibbia però l'accostamento alla Bibbia va fatto con un certo raziocino e criterio d'accordo perché se uno lo fa in maniera sconsiderata anziché diventare alimento per la propria spiritualità diventa fonte di turbamento quindi ci vogliono dei requisiti legga l'ebook auxilium 01 tanto lo trova mi è arrivata l'email di notifica sta anche sullo store di Apple sta sul Google Play per chi ha Android sta su iTunes Store ovviamente download gratuito sta sul mio sito e sul mio sito c'è anche il PDF per chi non non ha i lettori di libri elettronici che leggono i formati punto epub allora il triunfo di Maria sopra il malla Ave Maria Don il mio marito dice che non esiste l'inferno perché Dio è così buono che un luogo guarda per tutti le dica qualcosa per favore a me povera ignorante l'unno ascolta allora l'inferno esiste perché è un dogma di fede anzitutto e l'inferno esiste perché Dio non obbliga nessuno ad andare in paradiso all'inferno ci va chi continua fino alla fine della sua esistenza a vivere fuori della volontà di Dio senza pentirsi l'inferno è la testazione della radicale dell'esistenza della libertà dell'uomo Adele Ballato Virgilio buonasera Padre vorrei sapere seppur avendo perdonato chi mi ha fatto del male questi non vogliono una volta perdonare ostacolano neanche i rapporti con come bisogna comportarsi oltre che pregare allora di queste cose bisogna parlare in sede di confessione sacramentale o di colloquio spirituale con un sacerdote questa è una domanda personale perché per rispondere a questa domanda anche qui bisogna conoscere bene la situazione qual è il problema quali sono le circostanze cioè scendere in concreto d'accordo quindi non è il caso di farlo evidentemente mettendo in pubblica in pubblico i propri affari e quindi la sede opportuna è un colloquio deviso con un sacerdote Andrea Battimiello 99 abbiamo ancora un pochino di tempo padre buonasera a lei arrivo al dunque della questione questa l'abbiamo già vista ha fatto la stessa domanda mi ricordi mio padre sempre sempre si arrabbiando ci dice di stare zitti quando qualche volta si vengono giunti sul sacerdote va bene Sara Cardone scrive le faccio una richiesta un po' particolare dato che il tempo che sono andati sono un'ora a volte i cavi di alcuni di essi rimangono senza risposta e quindi mi chiedevo se fosse possibile esagerle in un altro modo certo la settimana seguente ci si collega tempestivamente si segna la domanda e la si fa per prima mi sembra un ottimo un ottimo un ottimo sistema o se no si scrive un'email e se si ha la calma e la pazienza di aspettare perché i miei tempi di evasione dell'email possono essere lunghi intanto qualcuno scrive una mail dopo tre giorni questo quello che do molti giorni dopo ha non mai risposto dico ragazzi quindi quando posso leggo l'email e rispondo ecco ma non ci sono risposte tattà quindi non sempre ho la possibilità di essere tempestivo nelle vadre dell'email giuri giuri piazzese se non si è stato di essere stato per tutta la vita anche se decidesse di sposarsi così un papa è proprio fino alla morte è giusto perché nessuno ricorda veneto 16 quando era messo per la chiesa allora un papa è papa fino alla morte certamente ma con vescovo è vescovo fino alla morte cioè un vescovo dopo i 75 anni diventa vescovo emerito e si ricorda durante la santa messa il vescovo è in carica perché la comunione gerarchica che è richiesta per la liceità della celebrazione della messa non è con il vescovo emerito d'accordo quindi con il vescovo che è andato in pensione a 75 anni per raggiunti limiti di età che chiaramente quando viene a fare una celebrazione viene stimato riverito per carità quello vescovo era il vescovo rimane ma non è più il vescovo in carica quindi viene il vescovo nuovo nella diocesi e si dice il nome del vescovo nuovo non più del vescovo emerito e così Benedetto XVI per sua libera volontà ha dato luogo per la prima volta nella storia la figura del papa emerito e per cui il papa emerito si comporta nei confronti del papa emerito si comporta né più né meno di come si comporta nei confronti del vescovo emerito quindi è papa ancora ma non fa il papa non ha le funzioni giurisdizionali e la pienezza del primato petrino che ha soltanto il suo successore a cui lui stesso ha promesso come è ovvio una volta che si dimette filiale rispetto riverenza e obbedienza tutti quanti vogliono bene Benedetto XVI per carità insomma ne hanno stima e considerazione ma sarebbe una stravaganza inopportuna ricordarlo in serie di celebrazione di missa Mary Cree buonasera volevo chiedere nel momento in cui si trova separati da un paio di anni è vero che è meglio divorziare e non restare in stato di separazione il divorzio figlio ora mia cara per un cattolico non può essere strada da percorrere quindi anche la separazione di per sé secondo il diritto canonico e a certe sole condizioni adesso vedo che il tempo sta scadendo abbiamo un minuto e dovrebbe essere separazione ordinariamente di fatto perché la separazione è sempre finalizzata nella mente diciamo così della Chiesa a una possibile e futura riconciliazione bene vedo che non ci sono altre domande abbiamo un minuto quindi questa finiamo con un minuto d'anticipo così abbiamo tempo non troppa diciamo così fretta a fare i saluti se Dio vuole ci vediamo la prossima settimana spero che anche oggi sia andato tutto quanto bene la mia benedizione a tutti mi raccomando celebriamo alla grande la festa del Corpus Domini che arriverà domenica prossima facciamo una grande festa a Gesù Eucharistia questa è la festa che chiude un po' l'anno pastorale in tutte quante le parrocchie viviamola con tutto l'amore possibile a Gesù Eucharistia la mia benedizione su di tutti buonanotte Dio vi benedica Ave Maria Grazie a tutti